Una corsa di una decina di metri, si spera questa volta, verso una nuova normalità. Sarà questa molto probabilmente l'immagine da consegnare agli annali della Pasqua 2021 a Sulmona. Per il secondo anno di fila, in tempo di pandemia, la secolare rappresentazione della Madonna che scappa in piazza è destinata a ripetersi a porte chiuse all'interno della chiesa di Santa Maria della Tomba, come è avvenuto lo scorso anno e come avveniva a un tempo, stando al documento del 1800 che è custodito nell'archivio lauretano. Se nella passata edizione la novità era tutta da sperimentare, quest'anno si starebbe lavorando anche per una corsa e streaming e in diretta tv, per dare la possibilità alla città intera, e non solo, di non perdere l'appuntamento con l'irrinunciabile tradizione che genera sempre trasporto emotivo e grande coinvolgimento interiore. La Pasqua lauretana comincerà nella chiesa della Madonna del Carmine, con la celebrazione della Santa Messa delle Dieci. La chiesa di piazza Plebiscito resterà quindi rigorosamente chiusa. Alle 12 è prevista la sagra rappresentazione della Madonna che scappa, che potrebbe essere trasmessa dalla nostra emittente al 18 in tv e su streaming. Il condizionale è d'obbligo perché particolari e dettagli sono ancora da definire. La Madonna vestita a lutto sarà quindi condotta all'ingresso della chiesa della tomba a spalla. La corsa comincerà subito dopo i comandi di rito, con il rituale della caduta del manto nero per i verde della speranza, la rosa rossa al posto del faruzzoletto bianco e la commozione dietro lo schermo. Lo scorso anno il simbolico volo delle colombe fu riperuto al termine della corsa e all'esterno della chiesa, con la speranza che quest'anno sia davvero di buon auspicio per uscire dall'incubo della pandemia. Ieri intanto, con la celebrazione delle palme, è iniziata la settimana santa. Tre indicazioni come vivere questa settimana santa possono essere La prima, sostare davanti al tavernacolo, davanti all'Eucaristia per sperimentare e sentire tutto l'amore di Dio per noi. A leggere, a rileggere la passione, la scrittura, per lasciare che l'amore misericordioso di Dio possa impregnare tutta la nostra esistenza e poi, contemplando il Cristo crocifisso, entrare nel mistero del suo amore per vivere cristianamente tutta la nostra vita.